Intanto si paga, mentre Renzi si impegna a semplificare le tasse e a ridurne il peso, oggi in molti comuni ultimo giorno per la Tasi. Non strozzateci, appello delle imprese al governo, per i prestiti le banche applicano tassi sempre più alti, quasi da usura. Difesa schierata, per fermare il contagio di Ebola la ministra Lorenzin sollecita un coordinamento europeo. A Roma ospedali pronti a far fronte ad ogni emergenza, con lo Spallanzani in prima linea. Così è meglio? Tocca al paziente l'onere della prova nei casi di mala sanità. Soddisfatti i medici perché ne risponderanno gli ospedali. Secondo il Kodakons nulla cambia. La vecchia regina si rifà il look. Ha trovato uno sponsor il piano di risistemazione dell'Apia Antica, la più importante strada della Roma imperiale. Buongiorno e benvenuti al telegiornale di Lumsanews. Tasi, i comuni battono cassa. Oggi infatti è l'ultimo giorno utile per pagarla nelle città che, come Roma, hanno deliberato le aliquote dopo il 10 settembre. Ma il calcolo è un rebus che mette in difficoltà cittadini e imprese. Facciamo il punto con Anna Bigano. Ultima arrivata nella selva di tasse del sistema Italia, la Tasi si paga sugli immobili e serve a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili, come l'illuminazione pubblica e la manutenzione di strade e aree verdi. Sono circa 15 milioni proprietari di prime case chiamati a sborsare in due rate una cifra media di 148 euro, con picchi di oltre i 400 nei capoluoghi. Per la prima volta pagano anche gli inquilini, in percettuali dal 10 al 30%. All'onero economico si aggiunge la difficoltà di determinare con esattezza l'importo da pagare. Fra aliquote variabili, codici comunali, coefficienti che cambiano secondo l'immobile e detrazioni varie, il calcolo è un vero e proprio rompicapo. Il cittadino comune di fondo, se è giovane, ha perlomeno forse la capacità, possedendo un computer, di vedere sui siti messi a disposizione dai comuni italiani, conoscendo la rendita, di avere il calcolo della Tasi e quindi anche la produzione del suo F24 per il pagamento. L'anziano può soltanto rivolgersi a qualcuno e pagare quel qualcuno per pagare pochi spiccioli. Non va meglio alle aziende. Secondo un rapporto di Confcommercio, quasi il 75% delle imprese del terziario pagherà con difficoltà un importo definito iniquo e circa il 65% critica l'ingorgo fiscale che concentra tanti appuntamenti nell'ultimo periodo dell'anno. Il Premier Renzi promette di intervenire per semplificare questa giungla di imposte e scadenze e lancia l'idea di una tassa unica comunale che accorpi Imo e Tasi. Per il Ministero dell'Economia però è necessario aspettare i primi dati sul gettito 2014, che saranno disponibili soltanto nei prossimi giorni. Non ci resta che attendere dunque, intanto, prepararci a mettere di nuovo le mani al portafoglio il 16 dicembre, quando il conto Tasi andrà saldato. Prestiti bancari a livello di usura. Imprese in difficoltà per ottenere l'accesso al credito e onde sui mini prestiti. Le aziende sono costrette a pagare interessi eccessivi. Federica Tagliavia E' di qualche giorno fa la notizia della denuncia di un'azienda agricola per menze nei confronti di un istituto di credito. Per anni le rate del mutuo contratto dall'azienda sono state regolarmente pagate ma a debito quasi istinto la situazione economica dell'azienda è peggiorata in modo tale da non consentire che ispetto delle scadenze. La banca ha così proceduto al pignoramento degli immobili ma a bloccare la procedura ha provveduto la procura di Parma. L'impresa adesso potrà cercare un accordo con la banca per il rientro del debito. Una vicenda che segnala come l'accesso al credito bancario per le imprese si faccia sempre più costoso e inaccessibile. Infatti, nonostante la garanzia statale oltre al tasso applicato dagli istituti le piccole e medie imprese sono obbligate a avversare le spese di istruttoria quota associative, cauzioni e una tantum varie. Gli interessi e i costi complessivi imposti dalle banche possono così arrivare fino al 20% come rivela un'analisi condotta da un'impresa in base alle segnalazioni raccolte tra le 122.000 aziende associate. In particolare, la ricerca evidenzia quanto sia costoso l'accesso ai confidi, consorsi collettivi di garanzia dei fidi e al Fondo Centrale di Garanzia. Il nodo principale da risolvere, commenta il presidente di un'impresa, Paolo Longobardi, è proprio quello delle garanzie. Ne vengono chieste troppo agli imprenditori e quando si cerca di utilizzare gli strumenti statali i costi diventano troppo elevati, scoraggiando così la richiesta di un finanziamento. Parliamo del virus Ebola. Rafforzate le misure di sicurezza negli aeroporti italiani. Intanto, la ministra Lorenzin cerca un coordinamento europeo per prevenire il contagio e come centro di riferimento nazionale sceglie l'ospedale Spallanzani di Roma. Roberto Rotunno. Per ora si è trattato solo di falsi allarmi, ma l'allerta Ebola ha mobilitato tutti gli ospedali italiani pronti a intervenire per scongiurare ogni rischio di contagio. Il Ministero della Salute è individuato nell'ospedale Spallanzani di Roma, specializzato proprio nella cura delle malattie infettive, il centro di riferimento nazionale. La ministra Beatrice Lorenzin, in virtù del semestre europeo a guida italiana, coordina il lavoro di tutti i ministri degli stati membri per un piano comune di prevenzione. Particolare attenzione è rivolta agli aeroporti per intercettare possibili sospetti sui voli in arrivo da paesi interessati dal virus. L'Italia, lo ricordiamo, è collegata direttamente solo con la Nigeria, paese che potrebbe non essere più a rischio vista l'assenza di nuovi casi. Il problema riguarda invece i voli cosiddetti indiretti, quelli cioè che partono da Guinea, Liberia e Sierra Leone e giungono nel nostro paese facendo scalo ad esempio a Bruxelles, Madrid, Lisbona o Parigi. All'aeroporto di Roma Fiumicino è pronto ad intervenire l'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera. Tutti i casi sospetti vengono immediatamente trasferiti allo Spallanzani, che ha schierato, come ha spiegato alla stampa nei giorni scorsi il direttore scientifico Giuseppe Ippolito, un personale altamente formato. Il trasporto dei pazienti viene effettuato tramite ambulanze ad alto biocontenimento, dotate cioè di bolle di plastica che permette ai medici di assistere il malato dall'esterno, nella massima sicurezza per tutti. La sentenza del Tribunale di Milano su un caso di malassanità sembra possa cambiare il rapporto tra medico e paziente. Emanuele Bianchi e Nino Fazio ci spiegano di che cosa si tratta e che cosa potrà succedere d'ora in avanti. Sarà il paziente a dover dimostrare la colpa del medico per un presunto danno subito e non più il professionista a dover provare la correttezza del proprio operato. Per il risarcimento, inoltre, il paziente ha ora solo 5 anni, non più 10. Così ha stabilito il Tribunale di Milano, interpretando la legge Balduzzi del 2012. Questa sentenza di Milano è sicuramente uno spiraglio, uno spiraglio di novità che ci mette in una condizione di maggiore serenità. È una normativa che va modificata nella nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, nella nomina dei consulenti di parte. E questa spero che sia una sentenza che è in stradi sulle modifiche che devono essere realmente apportate. La sentenza, che alleggerisce la posizione del medico, ha però mantenuto la cosiddetta responsabilità contrattuale per l'ospedale, cui spetta ancora l'onere della prova. Così è anche per il medico, che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale. Rimane il dubbio se si tratti o meno di una decisione rivoluzionaria. Dunque noi come associazione di consumatori, ma anche come avvocati, perché ovviamente dietro l'associazione di consumatori ci sono gli avvocati, sosteniamo che fondamentalmente non cambia nulla. Se si decide la struttura ospedaliera, la struttura ospedaliera risponde sempre e comunque proprio per il rapporto di medesimazione organica dei propri dipendenti e collaboratori. Quindi risponderebbe comunque dell'operato del medico. Secondo i pazienti però, ritrovata una maggiore serenità, il medico sarà più in clina a terapie innovative ed efficaci, mettendo da parte la cosiddetta medicina difensiva. Qualunque sia il sistema o quello che diano la possibilità ai medici di fare il proprio lavoro, senza dover trovare le scamotace delle scuse, per rinunciare a certi interventi che secondo loro sono controproducenti. Penso che sia positivo perché permette al medico di operare in piena libertà e di provare senza alcuna ripercussione legale a dare una mano al paziente. Sicurezza alimentare e qualità del cibo. Queste le chiavi da cui ripartire per risolvere l'agricoltura del pianeta. Ne hanno parlato giornalisti e studiosi che si sono incontrati a Napoli in occasione dell'undicesimo forum internazionale per la salvaguardia della natura. Il servizio di Maria Lucia Panucci. Filiera corta, agricoltura di qualità, tutela del territorio, investimenti per la biodiversità, norme precise per i piccoli produttori. Sono questi i criteri che nel futuro possono rappresentare una garanzia dell'agricoltura mondiale. Secondo l'associazione Green Accord Ollus, che nella lunga maratona di avvicinamento all'Expo di Milano ha organizzato l'undicesimo forum internazionale dell'informazione per la salvaguardia della natura. Prestigiosi organizzazioni come la FAO, la Caritas, Slow Food e un centinaio di giornalisti di tutto il mondo si sono dati appuntamenti a Napoli per parlare di malnutrizione, crisi ambientale e disuguaglianza economica, i problemi che oggi attanagliano maggiormente l'agricoltura del pianeta. Secondo le stime del Ministero delle Politiche Agricole, nel 2050 la terra avrà più di 9 miliardi di abitanti e la domanda alimentare crescerà del 60%. Garantire cibo sicuro e di qualità a una popolazione in quest'ante crescita sarà quindi la sfida dei prossimi anni. Stanno nascendo diverse forme che vogliono recuperare la qualità e consentire al consumatore di essere consapevole. Si è partiti dai marchi riconosciuti a livello europeo, parliamo delle DOP e delle IGP, che sono il simbolo della qualità della produzione agroalimentare. Oggi si registra un costante aumento del flusso di materie prime agricole dai paesi poveri verso quelli più floridi. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni così ricche, la vita di 800 milioni di persone è a rischio. Serve perciò un cambio di rotta e un nuovo modello agricolo più sostenibile, equo e che salvaguardi la biosfera. Per rilanciare l'agricoltura le filiere devono tornare a considerare il territorio in cui si sviluppano, soprattutto in Italia, dove il settore agricolo da solo vale 260 miliardi di euro ed è un'opportunità preziosa per molti giovani. Il problema degli organismi geneticamente modificati è proprio questo, che noi non sappiamo gli effetti a lungo termine sulla salute e sull'ambiente. E quindi perché andare a sollevare altri problemi quando già ci sono situazioni che vanno curate? Scoprire quello che noi di buono già abbiamo può essere la soluzione. Come il Colosseo, anche il Parco dell'Appia Antica ha trovato un grande sponsor per finanziare il piano di sistemazione. Cesare Bifulco e Cecilia Greco. Lungo la regina Viarum, l'antica strada che collegava Roma a Brindisi, si estende uno dei più grandi polmoni verdi del Lazio, il Parco dell'Appia Antica. 3.400 ettari di verde alle porte della capitale, ciò che resta di quel che un tempo era l'agroromano. La fitta vegetazione del parco nasconde grandi tesori archeologici, tra cui la tomba di Cecilia Metella, il Castello dei Caetani e il Circo di Massenzio. Questo splendido sito, che solo nel 1988 è stato riconosciuto come parco regionale, è spesso teatro di iniziative che coinvolgono le scuole e le associazioni che si battono per garantire una maggiore tutela del suo patrimonio storico e ambientale. Sono tante infatti le criticità di un'area così importante, dall'abbandono selvaggio e di rifiuti, agli atti di vandalismo e danni della flora e persino dei reperti storici. Criticità che fino ad oggi sono state spesso arginate grazie al generoso aiuto di volontari e associazioni. Le vie laterali e l'Appia Antica, che sono vie di campagna, vengono usate come discariche. Abbiamo avuto distruzioni di monumenti, c'è chi ci prende il sole sopra portandosi le seggioline, c'è chi ci passeggia, c'è chi ci dipinge, c'è chi... Vanno di tutto e la cosa più assurda è che qui dal 97 esiste un'ordinanza che prevede che la domenica la via Appia Antica sia un'area pedonale e l'ordinanza di fatto non viene più rispettata. A breve però questi problemi potrebbero essere vicini a soluzione. È di qualche giorno fa infatti l'accordo raggiunto tra il Ministero e uno sponsor di prestigio, la società Autostrade. Grazie a questo l'Appia potrà finalmente tornare all'antico splendore. Il progetto comporterebbe la chiusura totale di una parte della strada, l'inserimento di nuovi vincoli e limiti alla velocità e la riqualificazione delle aree verdi e di quelle archeologiche. Secondo le ultime indiscrezioni l'accordo verrà ufficializzato entro la fine dell'anno. Finisce qui il telegiornale di Lungsta News. A tutti grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima settimana. Finisce qui il telegiornale di Lungsta News.